salve amici e bentornati nel canale charlie oggi voglio parlare di questa telecamera della citronix di questo marchio in passato io ho già recensito altre due telecamere devo dire che vanno veramente bene la prima lo sto utilizzando circa un paio d'anni e non perde un colpo questa è la prima telecamera che vado a testare che non è alimentata a batteria ma tramite corrente elettrica con il suo alimentatore telecamera 5 megapixel zoom ottico 5x supporta la banda del wifi 2.4 e 5 gigahertz importante perché non tutte le telecamere supportano 5 gigahertz ma può anche essere cabblata con un cavo rj45 prima di scoprire tutte le altre caratteristiche andiamo ad aprire la scatola e vediamo cosa contiene partiamo subito hd telecamera di sicurezza andiamo a vedere cosa contiene allora questa è la dima per fare i bui quindi per fissarla al soffitto e non sbagliare manuale delle istruzioni c'è anche italiano questo è il qr code da scansionare per scaricare l'applicazione compatibile sia con android che con dispositivi ios e andiamo a vedere cosa c'è dentro allora all'interno troviamo alimentatore perché come ho detto questa telecamera va alimentata a corrente elettrica quindi alimentatore per collegarla e il cavo mi sembra anche abbastanza lungo vediamo un po' uno due diciamo intorno ai tre metri dovrebbe essere così più o meno questa è la nostra telecamera allora cao rj45 per cablarla questo è per i cavi stop officer per fissarla al soffitto antennina per il wifi il tappino che stava qui che si è tolto e questa è la nostra telecamera via la pellicolina devo dire molto 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 bella naturalmente va attaccata sotto sopra in questa posizione e dentro questa bella palla c'è la nostra telecamera naturalmente è orientabile tramite cellulare quindi tramite applicazione e si ruota di 355 gradi quindi abbiamo un tilt di 90 gradi quindi inclinazione su e giù 90 gradi e un panne di 355 gradi quindi fa quasi un 360 questa è la staffa che va fissata al soffitto poi l'attacco è a baionetta quindi una volta che abbiamo inserito si fa questo mezzo giro e si attacca bene adesso che facciamo scarico l'applicazione e vediamo come si configura molto velocemente abbiamo detto applicazione compatibile sia con dispositivi android che con dispositivi ios quindi che faccio vado a scansionare il query code per android ok citronix pro installa apri consenti naturalmente devo creare un account quindi vado a creare un bel account quindi vado in registrazione vado a mettere la mia mail adesso andiamo molto velocemente perché tanto sono sempre gli stessi passi che servono per configurare qualsiasi dispositivo di domotica ho ricevuto il codice quindi lo vado ad inserire ok adesso dobbiamo andare ad aggiungere il dispositivo naturalmente per aggiungere il dispositivo va prima alimentato quindi vado a collegare la corrente elettrica a questo punto avvito anche l'antennina per il wifi perché tanto io la configuro con il wifi adesso è il momento di alimentarla tramite il suo spinotto in questo modo qui vi faccio vedere che abbiamo la porta rg45 per cablarla e qui abbiamo il tasto di reset la telecamera comincia a ruotare sta facendo strani rumori vedo che sta ruotando quindi prima di configurarla comunque dobbiamo andare ad eseguire il reset premendo il tasto che si trova qui dentro per circa 8 secondi quindi andiamo ad aprire il coperchietto eccolo qui aspettiamo che finisce tutti i suoi movimenti non so se si riescono a vedere devo dire che materiali molto molto buoni ok adesso andiamo a premere il tasto per 8 secondi il tasto di reset la telecamera emette questo rumore e significa che il reset è andato a buon fine quindi a questo punto possiamo andarla a configurare tramite applicazione quindi apriamo l'applicazione clicchiamo su aggiungi dispositivo la cosa che vi consiglio è di andare a controllare il wifi e aspettiamo che la troviamo tra le reti disponibili eccola qua quindi significa che effettivamente la telecamera adesso è disponibile tutti questi passi io li faccio vedere molto velocemente perché sono passi che normalmente si compiono per configurare qualsiasi dispositivo che può essere una telecamera, un aspirapolvere, wifi, tutto quello che è wifi normalmente ha una procedura guidata molto chiara come in questo caso ok configurazione avvenuta con successo la chiamo camera perfetto conferma ed eccola qui per la sicurezza dobbiamo cambiare la password la prima volta quindi vado a cambiare la password perfetto la telecamera è in connessione connessa l'apriamo ed ecco qui siamo collegati a nostra telecamera naturalmente questa telecamera va attaccata al soffitto in questo modo e qui dentro abbiamo la parte che ruota adesso allora dall'applicazione ingrandiamo la finestra cambiamo anche la qualità mettiamo HD che mi piace di più l'applicazione posso naturalmente andare ad attivare l'audio 1, 2, 3 1, 2, 3 si sente benissimo 1, 2, 3 poi leggo posso andare a parlare io quindi se ho qualcuno davanti alla telecamera posso andare a dialogare con lui 1, 2, 3 1 eccolo è arrivato leviamolo perché naturalmente c'è il rimbombo poi cosa posso fare alla telecamera? naturalmente posso andare a ruotare la telecamera da applicazioni in questo modo eccola e non so se si riesce a vedere ma sta ruotando posso fare su e giù di 90 gradi come appunto ho già detto eccola qui e la cosa bella che ha questa telecamera è lo zoom 5x riparliamo di uno zoom ottico quindi qui abbiamo lo zoom quindi premendo più guardate quanto zoom e come mantiene la qualità veramente impressionante allora qui abbiamo detto posso andare a registrare quindi registrare quello che effettivamente sto vedendo posso scattare una foto di quello che sto vedendo attivare il microfono quindi attivare l'audio bidirezionale posso andare ad eseguire lo zoom eccolo qui come in questo caso ruotare la telecamera eccola destra, sinistra, su e giù poi sempre da questo menu posso andare a specchiare quindi ribaltare l'immagine posso andare a attivare il tracciamento perché questa telecamera oltre a rilevare la presenza umana quindi questo serve per ridurre al minimo gli allarmi una volta che rileva la presenza la seguo in automatico quindi devo dire molto efficace adesso lo disattiviamo poi quindi vediamo cambiare la password gestione degli allarmi adesso sono disattivati quindi posso andare ad attivare diciamo gli allarmi quindi attivare l'allarme di movimento l'allarme intelligente quindi appunto quello che riguarda la presenza della persona umana posso anche andare a modificare la sensibilità poi andiamo avanti impostazioni video risoluzione massima 2560x1920 quindi devo dire tanta roba impostazioni audio posso andare a abbassare o aumentare il volume registrazione del piano della scheda io non l'ho messa questa telecamera supporta una scheda micro sd che si inserisce all'interno di questo slot ma io non l'ho inserita impostazione della scheda quindi mi dice che effettivamente è vuota quindi non c'è infatti faccio formattare la sd non c'è impostazione dell'ora impostazione predefinita bene abbiamo visto l'applicazione adesso non c'è sta che raccogliere tutto scendere in grace e vedere come si comporta al buio questa telecamera non ha dei led ausiliari ma comunque infrarossi che ci permettono una visione al buio fino a 30 metri le altre caratteristiche principali l'abbiamo già dette quindi il p60 serie quindi resistente agli agenti atmosferici zoom ottico 5x 5 megapixel è la qualità video audio bidirezionale al tracciamento automatico delle persone porta una micro sd fino a 128 gigabyte questo serve sicuramente per registrare tutti quanti gli allarmi ed eccoci in garage ho montato perché altro ho accroccato la telecamera ma comunque giusto per farvela vedere cominciamo subito quindi esco dal garage e apro anche l'applicazione vi faccio vedere che come entro in garage ho subito questo quadrato giallo che mi segue che significa che la telecamera ha rilevato la presenza umana la figura umana e quindi adesso quando io mi sposto come potete vedere lei gira con me in automatico senza che io faccio niente lei cerca di seguirmi e di tenermi sempre al centro dell'immagine questo movimento che fa naturalmente è automatico io non la sto manovrando potrei manovrarla dai tasti laterali come in questo caso quindi questo sono io che la sto muovendo ma se la lascio e mi sposto è lei che ruota che mi segue qui mi ha perso che sono uscito rieccomi mi riprende e quindi come mi aggancia cerca sempre di tenermi al centro dell'immagine quindi devo dire che questa è la prima volta che testo questa funzione perché le altre telecamere della Citronix che avevo testato non avevano questo tipo di funzione adesso un'altra cosa che vi voglio far vedere è lo zoom perché vi ricordo che lo zoom è 5 per quindi mi allontano e parto con lo zoom vi assicuro che è tanta tanta roba e comunque rimango molto nitido eccomi qua messa a fuoco automatica quindi mi riallontano per farvi capire quanto è distante la telecamera e riparto di zoom e comunque devo dire che il mio viso ogni tanto mi perde ma eccomi qua devo dire comunque il mio viso rimane nitido nonostante sia molto molto lontano bene quindi questo ok altra cosa che vi voglio far vedere è come funziona al buio quindi togliamo lo zoom e adesso vado a spegnere la luce ok ecco qui si è spento il faretto e siamo completamente al buio e devo dire che anche al buio come possiamo vedere rimango sempre al centro dell'inquadratura grazie alla telecamera che mi segue e anche la qualità al buio devo dire che non è per niente male mi allontano lei mi segue provo a fare un piccolo zoom eccolo qui guardate quanto è veloce lo zoom anche lo zoom va bene devo dire quindi dal mio punto di vista posso dire che anche al buio questa telecamera si comporta bene sia per quanto riguarda la qualità video ma anche per quanto riguarda il fatto del tracciamento che lei comunque qui c'è anche lo specchio che gli dà fastidio come potete vedere qui inquadra sia me che lo specchio quindi un pochettino qui immagino che questa cosa gli possa dare fastidio però devo dire che poi torna sempre su di me bene bene adesso andiamo invece ad attivare gli allarmi così vediamo come si comporta e quanto è sensibile con gli allarmi quindi mi muovo vediamo che succede adesso ho gli allarmi attivi qualcosa sta arrivando vedo le notifiche sotto degli allarmi che stanno arrivando e la cosa che mi piace è che comunque riesce sempre a seguirmi come in questo caso vedete anche al buio mi assicuro che è buio completo e lei comunque riesce sempre a seguirmi questa cosa mi piace molto e nel frattempo comunque vedo che sono arrivate le notifiche perfetto riaccendiamo la luce così torniamo anche a colori continuano le notifiche ok eccoci qua siamo tornati a colori adesso voglio farvi vedere le notifiche che mi sono arrivate naturalmente adesso non ho inserito la SD quindi non me la fa vedere qui trovo le mie registrazioni ma gli allarmi dove trovarli nella SD ancora allarmi adesso li vado a disattivare se no divento matto per disattivarli torno qui vado su gestione degli allarmi ricevi notifiche guarda quante ne sono arrivati bene amici eccoci giunti alle conclusioni dal mio punto di vista questa videocamera di sicurezza della G-Tronics funziona veramente molto bene come abbiamo visto rispetto alle altre due telecamere ha il tracciamento automatico del movimento e devo dire che si comporta benissimo ha uno zoom 5x e una qualità di 5 megapixel attualmente questa videocamera ha un prezzo su Amazon di circa 139 euro nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere ma c'è un cupone che vi permetterà di portare via quindi di acquistare questa videocamera a 100 euro e devo dire che tutte queste prestazioni e questa qualità a 100 euro è veramente un vero affare amici il video termina qui come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti a presto al prossimo video Flavio